1360 euro netti per 8 giorni di lavoro. Queste le condizioni lavorative per il Babbo Natale del centro commerciale Cremona 2 di Gadesco. Le selezioni ufficiali si sono tenute questo pomeriggio. Età minima 50 anni, un po' di pancia, non guasta, meglio se ci sono barba e capelli bianchi. Ma in fin dei conti ci possono provare tutti. Ecco cosa ci hanno raccontato gli aspiranti Babbi. Perché proprio lei dovrebbe essere Babbo Natale? Ma guardi io provo se va bene e ben volentieri perché io già lo faccio tutti gli anni nel mio oratorio. L'ho fatto con i miei nipoti, mia figlia e perché non provare qui? Io faccio il DJ di professione e ho già avuto da fare con tanti bambini, compleanni, mio compleanno e ci provo. Se va bene va bene, se non va bene a me. Sì perché l'anno scorso era la prima volta e proprio l'ho fatto diciamo così anche per i soldi. Quest'anno è perché è stato emozionato. I bambini sono di una sincirità, di una schiettezza e si passano anche in momenti brutti. Ma come si valuta un vero Babbo Natale? Allora i criteri di valutazione variano da l'aspetto fisico naturalmente, l'empatia e la capacità di lavorare con i bambini. Quindi alla fine del casting faremo leggere a tutti i Babbi Natale che arrivano in finale una favola per capire un po' poi se sono adatti a fare questo ruolo all'interno di questa galleria commerciale. Oh! Oh! All the lights so shining... Grazie a tutti.